Pronto, gruppo esplorazioni GS-CAV? Sì? Ho fatto dei lavori nel cortile di casa mia e ho trovato un posto da 32 metri. Sì? 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 Sì! Ecco il futuro della tua specie di insegna. Volevo sapere se è tutto uniforme o se ci sono stati dei crolli da dove sei sceso fino adesso. No, non ci sono più. 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 No, non ci sono più.